Il prezzo per l'Unione Europea sarà enorme. Saranno poi i contribuenti a dover ripagare tutto questo, come se il domani non esistesse. È irresponsabile. È una vera e propria presa in giro un suicidio politico. Molti non lo capiscono perché non si è abituati a ragionare in questi ordini di grandezza, ma lei sfrutta questa ignoranza per convincerci di cose che non esistono, in nome della solidarietà. Quindi il governo della Remarca, della Svezia, dei Paesi Bassi e dell'Austria dovranno, speriamo, salvarci perché si rinunci a questo suicidio.